Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Allora partiamo subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. I due sono al centro della proposta di risoluzione approvata dall'Aula con voto unanime e illustrata dalla Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi, del Partito Democratico. Ritengo che innanzitutto il primo problema sulla scuola sia quello di arrivare con un'adeguata vaccinazione, per cui noi riapriremo il portale fra pochi giorni e in questo caso metteremo una voce specifica anche per i ragazzi dai 12 ai 16 anni, che finora non avevamo mai preventivato nella copertura vaccinale. Naturalmente da un punto di vista oggettivo noi abbiamo da aprire le prenotazioni, ma contemporaneamente le vaccinazioni seguiranno il dopoferragosto, proprio perché i poco più di 100.000 vaccinanti possano essere dal 15 d'agosto all'inizio della scuola, prevista appunto per la seconda settimana di settembre, in grado di essere vaccinati. Devo dire che per quello che riguarda le caratteristiche noi avremo il trasporto pubblico all'80%, questo è l'obiettivo che ci poniamo, e avremo la possibilità di offrire proprio in coordinamento con gli uffici del Dipartimento e la pubblica istruzione di livello regionale, con i funzionari e delle occasioni di incontro per capire come si prevede, diciamo, di comuni accordo, di poter procedere nella disposizione logistica delle classi, della composizione all'interno delle scuole, di quelli che sono gli aspetti che garantiscono la prevenzione. Sicuramente sono delle misure che sono utili, ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule, e credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza Covid e del necessario distanziamento, ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la Regione Toscana, da questo punto di vista, non è sicuramente ben messa, perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi, e questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatti negli anni scorsi. Quindi si parte da una situazione piuttosto negativa, decisamente, e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista, perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. Studenti che hanno sofferto veramente molto per la didattica a distanza, la mancanza di socialità in questo periodo, il contatto diretto tra di loro e con gli insegnanti. Quindi tornare prima possibile alla didattica in presenza e al 100% e garantire anche la sicurezza deve essere una delle nostre priorità. Sempre per quanto riguarda l'ambito scolastico, è stata approvata con voto favorevole all'unanimità dal Consiglio regionale una mozione in merito all'utilizzo dei test antigenici salivari per gli studenti per l'apertura delle scuole in sicurezza. L'atto è stato presentato da Stefano Scaramedi di Italia Viva e da Cristina Giacchi del Partito Democratico. Bisogna lavorare fin da subito per consentire una ripartenza della scuola quando terminerà l'estate, nelle condizioni che mettano veramente i ragazzi a poter lavorare bene, in presenza, fare tutte le misure, adottare tutte le misure che consentono soprattutto ai ragazzi di stare in classi, a distanza, avere docenti, un numero congruo, ma soprattutto un atto importante, il nostro, quello che porta all'utilizzo dei tamponi salivari come grande elemento di novità. Il tampone salivare è una cosa semplicissima, basta masticare come fosse una gomma, tempo pochissimi secondi, si ha la risposta, non è invasivo, si può fare anche più volte durante la giornata, si può fare prima di entrare, prima di uscire, ed è un meccanismo semplicissimo. Questo atto è importante e abbiamo chiesto che la Regione Toscana sia apripista su questo percorso, per le scuole, per la didattica in presenza, ma anche per lo sport, per i centri educativi, per i centri di socializzazione, per la ripartenza di un quadro di normalità, che quando sarà a settembre ci consentirà quindi ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza, senza dover sottoporre al tampone, senza fare eccessive livelli di precauzioni, così come avviene di fatto nel mondo dello sport professionistico, adesso si potrebbe fare perfino nello sport e nelle scuole con tamponi salivari, e questo sarebbe un elemento di grande novità. Garantire i presidi scolastici nelle aree interne, rurali e parzialmente montane, è quanto chiede la mozione del gruppo PD, primo fermatario Vincenzo Ceccarelli, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Con questa mozione noi abbiamo chiesto un forte impegno in conferenza Stato-Regione affinché si possano rivedere i parametri del DPR 81, da dire quello che dà indicazioni per la formazione delle classi. Oggi già questo decreto prevede delle deroghe per quanto riguarda le aree meno popolate, ma comunque un numero minimo di dieci ragazzi. Purtroppo il nostro Paese è ormai da anni afflitto da un decremento della popolazione e a soffrirne sono di più le aree marginali, siano esse delle isole oppure delle aree interne. Siccome la Regione è impegnata su più fronti, con progetti tesi a ridurre la spopolazione e a garantire servizi essenziali anche alle popolazioni che vivono in queste aree più marginali e disagiate, riteniamo opportuno che possano essere rivisti questi parametri in maniera tale da poter garantire comunque il mantenimento delle classi anche in queste realtà, perché laddove si chiude una scuola si va ad impoverire un territorio, si tolgono punti di riferimento che sono e devono rimanere fondamentali. E il nostro impegno, spero, unite alla strategia nazionale, possa anche contribuire invece ad un ritorno della popolazione in maniera tale che poi le classi possano successivamente anche riacquisire i numeri ordinari ad oggi previsti. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione presentata dalla Commissione Cultura per sostenere il consolidamento dell'offerta degli istituti di istruzione tecnica superiore. Questa risoluzione nasce da un lavoro lungo fatto dalla Quinta Commissione di un percorso di audizione di tutti i soggetti interessati e di ascolto delle istanze dei territori. La formazione professionale terziaria, cosiddetta, cioè di livello superiore, paragonabile all'università, ha avuto un forte impulso in questi anni. Adesso è in corso una riforma nazionale della legge istitutiva degli ITS e anche un forte incremento dell'investimento in questo settore di formazione che nasce dal PNRR. Quindi, con la nostra risoluzione, anch'essa approvata all'unanimità, abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province e ai settori industriali perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni che sono lo strumento giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi, ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni. Questo starà al Governo e alla Regione deciderlo. Noi chiediamo che questo settore sia tributario di forte attenzione perché ci sembra strategico e buoni risultati ottenuti finora senza altro da sostenere. Gli ITS sono gli istituti tecnici superiori a cui si accede con un diploma. Quindi sono rivolti a ragazzi diplomati fino a 29 anni. sono istituti particolari perché sono specifici delle varie filiere tipo la filiera dell'oro, la filiera della pelletteria, dell'agroalimentare, eccetera. In Toscana, così come in tutta Italia, sono gestiti da fondazioni a cui fanno parte comuni, enti locali, camere di commercio, privati anche, che gestiscono questi corsi. C'è in questo momento e alla Camera una legge per cambiare un po' qualcosa perché si è visto che in Italia sono poco frequentati. Noi chiediamo con questa proposta di risoluzione che la Regione toscana continui a incrementare, a dare, diciamo, quanto dava gli altri anni per gli ITS, anche perché nel PNRR ci sono, mi sembra, 1,6 miliardi a disposizione proprio per questo tipo di istruzione superiore. È stata varata la nuova disciplina degli incarichi per i direttori della struttura operativa della Giunta regionale. L'Aula ha approvato la legge con 24 voti favorevoli, uno contrario e due astenuti. Il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario, per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della Prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in Commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in Prima Commissione e poi anche in Aula e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. Noi non abbiamo partecipato al voto non abbiamo partecipato al voto in quanto come dire siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in Aula quasi come un telefilm appuntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti e quindi è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza. Un terreno di scontro che si è consumato appunto in Commissione attraverso una serie di tappe diciamo di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in Aula. Quindi come dire una partita interna vedremo se poi il ruolo delle commissioni che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Bugliani sarà e sarà mantenuto diciamo al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi ripeto a un ulteriore scontro al quale noi diciamo come opposizione sicuramente insomma ci apprestiamo ad assistere. Era una legge dovuta era un adeguamento dovuto una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale abbiamo visto il Presidente Bugliani e il Presidente Gianni litigare becchettarsi in consiglio rimandare questa legge che ha subito emendamenti e contro emendamenti era semplicemente una legge di adeguamento una richiesta della Corte dei Conti da fare in cinque minuti il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare due mesi alla fine sono arrivati in fondo in maniera tutto sommato anche un po' a mio modo di vedere un po' raffazzonata passatemi il termine non al caso alcuni emendamenti presentati dallo stesso Partito Democratico sono stati ritenuti non corretti tecnicamente dai tecnici della Regione alla fine la legge è comunque arrivata in aula noi ci siamo astenuti proprio in virtù del fatto che fosse una legge da una parte dovuta ma dall'altra che ha subito un iter diciamo poco chiaro almeno così però ecco non passi il messaggio che la Regione sta facendo nomini o che nominerà nuovi direttori era semplicemente un adeguamento dovuto a una richiesta della Corte dei Conti questa era la nostra ultima intervista grazie per la cortesia attenzione cronache e commenti torna la prossima settimana grazie a tutti Autore dei sovrapposti